ragazzi oggi voglio far vedere l'alimentazione che uso nel periodo cova sia per le mamme che per i pulli couscous questo è il couscous e poi mettiamo un uova sodo dentro e lo iniziamo a rompere tutto iniziamo a rompere così maciniamo il luogo sotto se avete un frullatore non è già ancora c'è a bianco che il rosso e poi una volta che non è d'accordo bene Mischiamo tutto Ecco qua Poi prendiamo Un po' di Di spinos Quello là per i carbellini Un cucchiaino E lo mettiamo Dentro Poi prendiamo un po' di canapa Canapa questa è E la mettiamo La canapa non troppo Perché riscalda Poi pastoncino secco Con la vitamina E pure Con questa qua Io uso la Nekton Mettiamo un paio di cucchiai Per asciugare Un paio di cucchiai sopra Ecco qua Poi Se ci vogliono altri Li mettiamo poi un po' di gritto Che è questo qua Sarebbe rossi Di I molluschi triturati Mettiamo un po' Poi prendiamo un po' di avena Che in questo periodo va bene Perché Li riscalda Anche Un po' di avena Un po' di avena E mischiamo E mischiamo Bene Mischiamo E vediamo se si asciuga Se no Aggiungiamo un altro po' di pastoni Ecco qua Io come pastoncino secco Uso il San Michele Mi trovo molto bene Ecco qua Mischiamo E poi lo possiamo dare Ciao ragazzi E al prossimo video Grazie a tutti